Oh no Io ho degli Approv da chiamare però OH ECCOLI 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 All'Approv all'Approv Io c'è Stanno con le pezze Uno è fuggito via Uno solo Uno ancora dietro qualcosa eh Ucciso uno Quello dietro quello la è morto Stanno restando cazzo Quattrocento di granata Non ci sono altro Nei due di uno Io ho finito i colpi di No ho soltanto Hai colpi di pompa amico Cazzo Se vuoi Io ho finito il Krabber C'è proprio zero Mi hai lasciato anche un peschi Ah cazzo Non è che hai arrestato qualcuno? Ah no ci sono due qua Io andrei Cioè che ci può fare alla fine? Sento dei passi Sento dei passi Sento dei passi Sento dei passi Eh sono in safe qua eh Eh sta facendo cadere gli approva Aspetta un attimo 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 Ah Ma che Ma che Ma che Ma che cosa è da noi? Non si può entrare qua sotto? Non si può entrare qua sotto? Aspetta un attimo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Ma hai solo la wingman Uff 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 Uff